Non è semplice per nessuno rimanere in casa tutto questo tempo con il diffondersi del Covid, men che meno per i ragazzi con un disturbo dello spettro autistico e per i loro genitori. A mancare la quotidianità che è venuta improvvisamente veno sconvolgendo anche le loro vite, i genitori si ritrovano bloccati quindi tra la paura del contagio e la necessità di dover riempire di vita le ore dei propri figli. Il Covid per i nostri figli è stato devastante sotto tutti gli aspetti, sia terapeutico sia inclusivo, la mancanza della scuola, diciamo che tutto quello che era il quotidiano del ragazzo è venuto a mancare, quindi questi ragazzi si ritrovano molto spesso a casa, noi come associazione abbiamo cercato di fare in modo che comunque le terapie continuassero facendo fare i tamponi agli operatori, quindi lavorando in sicurezza con mascherine, guanti e quant'altro, proprio in virtù di non far mancare le terapie ai nostri figli perché sappiamo bene e per chi vive l'autismo sa benissimo che fermarsi è un grosso problema. Quindi noi abbiamo cercato in tutti i modi possibili di fare in modo che questa filiera non si fermasse e fortunatamente ci stiamo riuscendo anche con altre famiglie che stanno adottando lo stesso metodo nei centri convenzionati per chi porta il figlio nei centri convenzionati e poi sostanzialmente quello che più è difficile è quello di colmare il tempo del ragazzo nel contesto casa. Io stesso da papà con mio figlio la sera appena mi è possibile lo porto a fare un giro con la macchina, cerco in tutti i modi di fargli vivere un po' di normalità perché immaginiamoci che questi ragazzi vivono tutta la giornata in casa senza vedere un amico, senza vedere un professore o altre persone che solitamente loro erano abituati a vedere. Sappiamo tutti che questa difficoltà sta portando enormi sacrifici ai ragazzi e ai bambini normotipo vi lascio immaginare un ragazzo con autismo in questo caso quello che più noi da vicino viviamo, quale è la sua sensazione e quali sono le sue frustrazioni sotto proprio l'aspetto emotivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.